ho capito perché lo scorso episodio non abbiamo vinto perché non c'erano le musiche serie esu 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 esatto che tra l'altro è anche una musica che mettevo anche prima quando non c'erano la musica perché adesso c'è la musica quindi posso far senza mettere le musiche ma io questa musica la mettevo lo stesso perché l'avevo già scaricata ai tempi e quindi tutto ok piove ma magari no guarda come piove senti come piove guarda come vieni siamo già contro due veterani da nintendo switch qua su switch nintendo che mi lamenta fare che c'ho ancora bell'uomo qua che è semiprofessionista c'hai qui grande che non è fatto se ha fatto tutto l'altro mamma mia ha fatto tutto l'altro dell'uomo 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 italiano vero si paghi una posta faccio anche prosceniti faccio anche come è stato scritto adesso gli scrivo famosissimo youtuber esatto ma che scriviti famosissimo you porn perfetto mamma mia eva vangool con questo qua che metteva le mani è scusa e capisce che sei parente di cifre di rocco e fa il 2 a 1 il bell'uomo mamma mia non vorrei dire però chi è italiano chi è italiano ma siano tutti due italiani i nostri amici qua mamma due zingari si è esplodo molto bene ops ho mancato la palla ah ma che cacchio non ho scritto chi è italiano tutti e due però adesso ah fanno a posto ancora fare quelli che eh eh così ma ti faccio gol se va dentro quella vacca che ho fatto la parata che ho fatto la parata che capino che sfigare in questo derby talico e dovrà vincere noi però il derby talico mi hai messo che mi ha dato la parata permesso ma sono tutti due italiani il super 10 il super 3d ma come cacchio si chiama e dopo gli do l'amicizia così siamo in vena di amicizia comunque stavo dicendo voi non potete sentire ma sopra di noi sta accadendo l'inferno il finimondo di solito l'inferno è sotto ma a casa mia è sotto cambiano un po' le cose cambiano diciamo le sezioni a b che parata la mia riga perché non posso mettermi a scrivere perché se no se blocca pure il bell'uomo sei famoso cazzo dicevo sei famoso sono vip e se sono vip e se vip e se vip e se vip e bell'uomo vip e se mai proprio fa prossimiti in ogni posto però speravo che erano fighe no 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 magari sono fanno 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 niss fanno ti ti e e 2 3 occhi più ok voilà col signor superman col signor superman se andrà a male sta partita è giusto perché siamo diciamo un attimino come si dice previ strati esatto per alle varie ma da no a parte quello anche dalle varie anime che vengono mie tutte sotto di noi si affanno chi chi ok vuoi vuoi prenderlo nel culo ah no vuoi di 9 l'amicizia paghi vuoi di 9 l'amicizia sbam il signor il super 3d eh che cacchio eh che cacchio aspettate occhio eh ho capito sta attendo se questi qua fanno i malandrini che 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 fanno apposta fanno apposta eh scusa eh scusa no mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma questo video intanto la partita sta proseguendo si stiamo pilipeando youtube le più più mamma mia vabbè bom mi hanno buttato via 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 facciamo prosceliti anche nelle partite più iscritti a me più visualizzazioni a me più moni a me esatto lo stavo dicendo io lo stavo dicendo io è più moni bell'uomo quindi scusa io faccio i video porti i contenuti tu lavora e se un giorno dovessi fare i soldi tu lavora che io guadagno ah ok allora dopo intestiamo il tuo iban di quasi la per i soldi ok ho capito ho capito ho capito barbone 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 mamma mia occhio via occhio per occhio mente perdente ops via 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 esploso esploso una volta cominciamo esploso valla 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 in casa è così cattivo pienamente si chiama il super 3d almeno me l'ha chiesto lui vuoi la misizia il super si ok che me fa soppare e se è scoppiato abbiamo pigliato il gol più 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 vabbè lo scarso via adesso vai là oh mio dio ma è davvero quello quel coglione bravissimo che cazzo quei imbecille che fa no che cazzo via vai fai gol via via storto storto fai brutto fai brutto fai brutto adesso chiudiamo un attimino qua la faccenda la faccenda qua con i sperando di beccare qualche nuovo iscritto sacro e poi ci apriamo un altro coso al super 3.0 l'amicizia e ha già abbandonato perfetto andiamo a aprire la cassa no che ha sficchiato vittorio 1 10.10 dobbiamo rifare le partite perché tanto ragazzi mi tocca dirvi una brutta notizia bruttissima mi dica adesso ci metteremo a fare le partite perché si stiamo stati retrocessi nello scorso video e quindi dobbiamo già fare ancora nove partite a vuoto e che ritroverete nelle prossime settimane perché non sto lì a portarvi ancora questa volta ma intanto le codificazioni del le neve e ho la possibilità di trovare ben due auto ben due ma guarda l'altra come è bella fa schifo l'altra troviamo qualcosa di buono amici telespettatori i nuovi iscritti mi porteranno fortuna sto cazzo mi portano fortuna mi ha bloccato la vernizia blocchi lucidi va bene bella ma anche no ed eccoci qua con l'aprimento delle casse in questo spezzone bonus con il bell'uomo il famosissimo youtuber bell'uomo che infatti non trovo niente infatti non trovo niente non sono mai fortunato esatto dato che settimana prossima vedremo di aprire robe infatti non trovo niente sto stronsk chifoso sbava ciambelle de merda bravo equipaggia subito e l'hai trovato anche in portatone rosso col colore differente ma che ci vuoi fare guarda siete fortunati ma siete fortunati che non potete vedere la faccia dei merda che sta a fare questo qua sto stronsk apri le altre perché che stai a dire schifoso e beh tanto te che devi aprirle tutte e due quindi dai a guardare questo schifoso eh vuoi trovare l'icantropo eh no che vuoi trovare l'inciantropo pieno se trova in queste due la macchina io spacco tutto ma no basta ce l'ho già una che ho già trovata una basta mi cerchi brava balla carra continuiamo balla carra continuiamo che trova pure la carra ma si dai schifoso equipaggia subito è ovvio dobbiamo stronsk ha fatto più lui da me in due minuti che io in due settimane e ma pure apre l'ultima e ma pure apre anche l'ultima te vuoi trovare ancora vuoi trovare ancora il doppione di questa auto no l'altra troviamo l'altra chifoso ho già questa questo ultimo aprimento via via altri cerchi va giù va giù va giù va vangul è stato il fortunello di qua di là sono meglio gli altri noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video